Le segreti virtù delle piante medicinali, vi presento il Romic Alunmia Orto, è utile per anemia, cure di primavera, dermatosi, fegato, pelle, stitichezze, ulcera, costituente. Un composto contenente per ulgositi, tannoidi, proprietà antianemico, astringente, depurativo, diuretico, lassativo, tonico. Quindi, parte utilizzata poi di succo fresco, radice, seccato, ottobre, novembre, pulita senza lavare, seccare al sole. Ripeto, è utile per l'anemia, cure di primavera, dermatosi, fegato, pelle, stitichezze, ulcera. Quindi, i costituenti sono un composto contenente per glucositi, tannoidi, proprietà antianemico, astringente, depurativo, diuretico, lassativo, tonico, usi interni, usi esterni. Ecco perché io dico sempre il norto botanico. Sono erbe spontanee. Vedi, guarda quanto ce n'è. Ce n'è molto. Qui abbiamo il topinambur. Poi abbiamo, bene, l'orteca. Ce n'è, ce ne sono di erbe qua. Eh, anche il tarasso. La prossima puntata parliamo del tarasso. Oggi è 12 luglio 2020, ore 10 e 30. Osserviviamo questo magnifico mio orto. Un'oasi di pace, di tranquillità, di benessere fisico-fisico. Senti? Il concerto della natura. Auguro una buona domenica a tutti. Senti? Senti?